Io sono un perito chimico, mi sono diplomato nel luglio del 60, stavo venendo giù a piedi per andare alla stazione a prendere il treno per venire al mare, mi ferma il direttore del personale, il dottor Nicolini, mi dice come è andata alla scuola Bruno, mi conosceva, è andata bene il dottore, quando è che ti presenti? Mi presento in ottobre, novembre, adesso faccio un po' di vacanza, dai presentati domani che ti facciamo le visite mediche eccetera, il primo di agosto sono entrato, quindi mi hanno assunto per strada come anni prima, mi hanno mai avuto l'assunto per strada. Quando sono arrivato nei laboratori, dico la verità, non ero emozionato, non è che chi sta, cosa devo fare, cosa non devo fare e allora c'era il dottor Franchi chiaramente impegnato, parlava al telefono, mi hanno fatto fare un po' di anticamera, mi ricordo che era arrivato in ritardo e siccome lui abitava a Savona, allora alla fine dell'intervista l'abbiamo fatta all'ultima parte giù dal viale, intanto che mi diceva ma lei fa raccolta di francobolli, raccolta di farfalle eccetera, perché nelle ricerche ci vuole gente precisa, allora mi faceva queste domande per vedere se ero uno che faceva raccolta di farfalle o di francobolli ero già uno preciso e io ho detto guardi dottore lo so dove vuole arrivare, l'ho capito che vuole vedere se sono preciso, io dico non faccio raccolta di niente, l'unica cosa che farei raccolta volentieri sarebbe di ragazze, che però non c'entra niente con il lavoro, mi ha detto, invece di chiamarmi Occhetto mi ha chiamato per nome per la prima volta e mi ha detto Bruno, Bruno, anche io quando ero a sua età mi piaceva, mi ha dato una mano e mi ha assunto per strada, questo dottor Franchi che è ancora vivo ed è del 25, è diventato signori il capo di tutte le ricerche di Ferragna, poi il capo di tutte le ricerche americane di tutta la Tremme e gli ultimi tre anni le ha fatte come scientist, assistente scientifico del managing director di tutta la Tremme, una persona che io stimo in un modo che non me lo potete immaginare. Io ero militare, sono andato a fare il corso sottificiale ed ero a Spoleto, nel 62-63 ho fatto il militare, nell'inverno come adesso, nel dicembre del 62 mi chiama, mi ricordo in furieria, il marisciallo dice, ho chetto in furieria, vado là, è arrivato un valia, un valia, ma è riuscito un valia in vita mia, mio papà faceva operaio eccetera, arriva sto valia 10.000 lire, 10.000 lire era già una bella cifra, giro il valia, c'era scritto di pugno dell'ingegnere Schiatti, buon Natale, la tua fabbrica non ti dimentica, ragazzi non ha detto la fabbrica, la tua fabbrica non ti dimentica, significava che a Ferrania era di più di una fabbrica, perché tutti sapevamo che dipendevamo da questo progresso che stavano facendo, perché il cinema che facevano allora lo mandavano a Cinecittà, lo mandavano anche negli Stati Uniti, ma soprattutto in Francia dove c'era la cultura cinematografica del momento, noi abbiamo vinto, dico noi, con orgoglio, come Ferrania con la P30, abbiamo vinto tre Oscar. 31 dicembre ragazzi, 31 dicembre del 60, io l'ultimo giorno dell'anno devo fare un certo tipo di lavoro e vado nel teatro di Posa dove c'era una specie di gabbiotto dove dovevamo fare delle prove, delle riprese con un 5.000, un faro di 5.000 davanti. Io vado lì, mi metto il mio 5.000, entro nel gabbiotto al buio e incomincio a fare dei lavori. Alle 5, meno 20, alle 4 e mezzo fanno una festa, come tutti fanno una festa l'ultimo giorno dell'anno, passano con il bicchiere in mano, con il panettone in mano eccetera e mi spostano senza che io me non accorgo perché mi spostano il 5.000, quindi cambia tutto. Arriva Franchi, guarda sta roba e vede che mi avevano spostato il 5.000 e era venuto fuori un casino. Mi dice occhetto cos'è questo troiaio? Non lo so dottore, così devo dire. Le rifaccia. E io ho detto beh, la prossima settimana, no adesso mi ha detto, giuro, io piangevo, nevicava, non c'era quasi più nessuno, sono uscito, ve lo giuro, vado là, rimetto il 5.000, non c'era più nessuno, c'era solo i pezzi di panettone per terra eccetera, rimetto il 5.000, lo rifaccio, ci avrò messo mezz'ora, anche di più, vado nel laboratorio, deserto, Franchi nel suo ufficio chiaramente, illuminato, sviluppo cosa devo sviluppare, le rimetto sul negatoscoppio, arriva Franchi, guarda, dice adesso sì che va bene, chiude il negatoscoppio, buon anno mi ha detto e se ne è andato, io me ne sono andato, una reazione di vita pazzesca. Noi quando c'erano delle migliorie, come i collaudatori della Fiat o della BMW, della Mercedes vanno in macchina in tutte le situazioni particolari, noi dovevamo simulare quello che faceva poi il cliente finale, una di queste prove le facevamo proprio sul campo, diciamo così, allora a quei tempi c'era uno dei ricercatori più in gamba che c'era, già mancato purtroppo, dottor Guzzi, ha proprio detto perché invece di fare le solite prove al mare eccetera, noi non facciamo un film proprio così almeno vediamo cosa succede e allora abbiamo deciso di fare il Nofteratu, Nofteratu 70 che chiaramente è la storia di un vampiro che l'abbiamo ambientata che era nato a Ferragna, lui faceva il vampiro, io facevo solo le riprese e lui faceva il vampiro con tutte le ragazze di Ferragna, c'è anche uno di questi americani che era con noi eccetera e abbiamo fatto questo film che è durato non so un mesetto, 30 giorni, tutte le riprese eccetera e poi questo in bianco e nero e poi noi abbiamo fatto altri, poi abbiamo fatto 3 nel 1000 per esempio, 3 nel 1000 ambientato a colori questo, sempre in super 8 o 2 per 8 perché il Nofteratu era in 2 per 8 addirittura, poi dopo era già arrivato il super 8 poi ne abbiamo fatto altri 16 mm e a quel punto poi studievamo come migliorare, a un certo punto mi avevano dato appunto sempre franco un incarico di trovare un prodotto che migliorasse la sensibilità, finalmente io avevo trovato una famiglia di chettoni che noi erano brevettati, contento come un pazzo, vediamo come vengono, comincio a fare tutte le prove e la sensibilità aumentava di 3 o 4 dimmi e quindi ero contento come un pazzo, chiamo il dottor Sanchi e gli dico, dottore guardi qua, lui guarda, bravo, bellissimi e sai cosa mi ha chiesto? Quanto costano? Non ho idea dottore, costavano più del diamante, per quello che non li aveva brevettati nessuno! Quando io arrivavo, dopo 4 mesi, 5 mesi che non vedevo mio papà, lo sa mio papà cosa mi diceva? Bruno, come va la fabbrica? Non mi chiedeva come stavo io, mi chiedeva come va la fabbrica! Io gli raccontavo dieci minuti di come va la fabbrica e alla fine mi diceva e tu come stai? Questo dice già tutto! Il mio consuocero, il dottor Aondio, è stato direttore dello stabilimento a suo tempo, lui lo vedeva ancora meno di mio papà! Diceva, lupo, come va la fabbrica? Anche lui! Allora mio papà, operaio, qualifica speciale, lui direttore dello stabilimento, quando mi vedevano, dopo 3-4 mesi che non mi vedevano, non mi chiedevano come stai, mi chiedevano come va la fabbrica! Basta, basta, non c'è altro da dire! Come va la fabbrica! grazie! Grazie.